il soggetto amoroso è angosciato dal fatto che l'oggetto amato risponda parsimoniosamente o non risponda affatto alle parole discorsi o lettere che gli rivolge quando io mi rivolgevo a lui parlando di una cosa qualsiasi X aveva spesso l'aria di guardare e di essere altrove come se stesse spiando qualcosa intorno a lui scoraggiato smettevo di parlare alla fine dopo un lungo silenzio X diceva continua ti sto ascoltando e allora riprendevo in qualche modo il filo di una storia a cui non credevo più simile a una difettosa sala da concerto lo spazio affettivo comporta dei recessi morti in cui il suono non circola più se è così il perfetto interlocutore l'amico non è quindi colui che vi costituisce intorno la più grande risonanza possibile l'amicizia non può forse definirsi come lo spazio di una sonorità totale questa attenzione sfuggente che posso fermire sulla distanza di tempo mi porta a pensare in modo gretto impegnato con tutte le mie forze a sedurre a distrarre io credevo parlando di mettere in mostra dei tesori d'ingegno ma questi tesori non vengono apprezzati se non come indifferenza io sperpero le mie qualità per niente tutto un fermento di affetti di dottrine di sapere di squisitezza tutta la briosità del mio io va a smorire a smorzarsi in uno spazio inerte come se pensiero colpevole la mia qualità superasse quella dell'oggetto amato come se fossi in anticipo su di lui orbene la relazione d'affetti è una macchina precisa la coincidenza la giustizia nel senso musicale della parola sono fondamentali al riguardo ciò che è sfasato è di troppo la mia parola non è propriamente un cascame ma piuttosto una giacenza ciò che non trova consumo immediato che non entra in circolo che va al macero dall'attenzione assente nasce un'angoscia di decisione devo o non devo andare avanti? parlare nel deserto? avrai bisogno di avere quella spigliatezza che proprio la sensibilità amorosa non può darmi devo o non devo fermarmi? rinunciare? sarebbe come dare a vedere che mi offendo che metto in causa l'altro e da questo prenderebbe spunto una scenata ancora una volta ci si trova di fronte al tranello la morte è essenzialmente questo tutto ciò che è stato visto sarà stato visto per niente tutto di ciò che abbiamo percepito in questi brevi momenti in cui parlo per niente è come se io morissi giacché l'essere amato diventa una figura sigillata un personaggio di sogno che non parla e nei sogni il mutismo è la morte o anche la madre gratificante mi indica lo specchio l'immagine e mi parla tu sei quella cosa ma la madre muta non mi dice cosa sono io non ho più basi fluttuo dolorosamente senza esistenza grazie a tutti